L'assessore Abbo, la chiusura di via Cuarone dipende da questi lavori di messa in sicurezza del rio Artallo. Ecco, un intervento che in parte è già cominciato e andrà avanti anche dopo questo spezzone, chiamiamolo. Ma che cosa farete adesso? Perché chiudere via Artallo? Via Cuarone, chiedo scusa. L'intervento complessivo parte dal ponte d'autostrada e arriva fino a via Martiri. Il pezzo purtroppo che ci costringe a chiudere via Cuarone consiste nella rimozione di una discontinuità idraulica, cioè di un'ostruzione del tombino che passa sotto via Cuarone dove scorre il rio Artallo. C'è un punto ostruito con un restringimento per demolirlo, l'unico modo è arrivarci da sopra, perché da sotto ti franerebbe il soffitto sulla testa, quindi da sopra bisogna rompere, scavare in un punto molto stretto perché ci sono le case, c'è la strada abbastanza stretta, scavare, andare a rimuovere questo restringimento e rifare il tombino. Per fare questo sono previsti 40 giorni e non è possibile consentire il traffico in questo periodo. Poi i lavori proseguiranno, altri interventi per giungere la messa in sicurezza, anche per consentire, voglio dire, funzionamento sicuro, mitigare perlomeno il rischio dove c'è il palasaruto. Esatto, tecnicamente si parla di mitigazione del rischio, non di messa in sicurezza definitiva, comunque ridurre il rischio di esondazione mantenendo in perfetta efficienza quel tombino. Purtroppo i ritombinati non sono il bisagno in segno, non sono mai una bella cosa, però quantomeno cercare di fare in modo che sia in perfetta efficienza, quindi si risana la volta che in alcuni punti rischia di cadere. Si imbrigliano invece le acque del palasalute, la parte bassa di via Acquarone, che attualmente anche loro riversano la tombinatura, quelle si imbrigliano e si portano a valle di via Marti della Libertà con un altro tubo in modo da togliere un po' di carico. Questo è l'intervento complessivo per cercare di rendere tutta quella zona con un fattore di rischio minore.